Chi pensa che il panettone sia sinonimo di dolce si sbaglia. Avete mai pensato di usare il panettone al posto di tartine e bruschette per accompagnare l'aperitivo? Da oggi lo si potrà fare con il nuovo pan giulivo, nato dall'idea e dall'unione di due imprenditori orlandini del settore della ristorazione. Un panettone salato prodotto dal pasticcere Franco Giulio da accompagnare con i salumi, rigorosamente di suino nero dei nebrodi di Giuseppe Gugliotta. Un'idea che ci è venuta così, per scherzo, a me e a Franco parlando di fare qualcosa perché io faccio la mortadella, lui fa i panettoni. Allora dare un senso diverso a questo Natale, quest'anno che magari è un pochino più ballerino rispetto a altri anni. Cosa c'è dentro questo panettone? Dentro questo panettone che noi abbiamo chiamato pan giulivo, che sarebbe la passione dell'orto. Ci sono delle zucchine, delle olive nere e dei pomodori e tutto è fatto con olio d'oliva extravergine. L'idea è di fare a Natale cominciare col panettone e finire col panettone. Cominciamo con l'aperitivo e tagliamo il panettone salato e finiamo la cena col panettone dolce. Ovviamente l'idea era da subito quella di farlo sposare con i salumi del territorio dei nebrodi, la mortadella di suino nero dei nebrodi e non solo. Allora per quanto mi riguarda sì, sicuramente Franco aveva un'esperienza in più sul panettone salato. Nel momento che io gli ho dato questo input lui si è messo all'opera e insieme penso che abbiamo fatto un bel prodotto. Il prodotto l'ha fatto Franco, però sicuramente il mio palato, il mio giudizio gli ha potuto dare un input per andare a fare un prodotto bello. Sul suggerimento di Giuseppe che ha accoppiato questo panettone salato con la sua mortadella abbiamo tolto qualche ingrediente, abbiamo fatto una ricetta personalizzata solo per lui. Sarà certamente un Natale diverso da trascorrere in casa e in famiglia, ma di certo non mancherà il panettone con cui adesso, oltre a concludere un pasto, lo si potrà anche iniziare. Strepitosa questa mortadella. Meraviglioso questo panettone. Auguri. Auguri. Auguri a tutti.